Una parte del cimitero dei Cappuccini è a rischio frana. La zona è quella ribattezzata nel gergolicatese Stirratu, l'alla del cimitero vecchio che si affaccia sulla darsena portuale di Marianello. Il pericolo è stato segnalato mediante la posizione di una rete arancione che però non può ovviamente rappresentare la soluzione a un pericolo che rimane e su cui si dovrà intervenire con urgenza visto anche l'approssimarsi della ricorrenza legata alla commemorazione dei defunti in programma nei primi giorni di novembre. Ad oggi, a nostro avviso, non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per far confluire in quest'ala del Camposanto Vecchio il gran numero di persone che ogni primo novembre dell'anno vanno a rendere visita ai propri cari defunti. Diverse tombe sono quasi in bilico tra il terrazzamento e la parte sottostante. A dividerle dal burrone, come detto, c'è solo una rete di colore arancione che non funge da elemento di contenimento ma solo la segnalazione del pericolo. A preoccupare è anche la condizione della pavimentazione. Diverse varaggini miracciano di aprirsi sul vuoto tra una tomba e l'altra. Lo stirratu necessita urgentemente di interventi di messa in sicurezza. La segnalazione è già stata presentata a Palazzo di Città da un gruppo di licatesi i cui familiari riposano proprio in questa ala del Camposanto. Non è però finora arrivata nessuna risposta esaustiva. La ricorrenza dei defunti si avvicina e fa pochi giorni i viali del cimitero saranno pieni di gente che vorrà portare il doveroso saluto ai propri cari scomparsi. Stante così la situazione, il minimo che si possa fare sarà prestare attenzione a dove si mettono i piedi.